Torna l'appuntamento con l'opera all'interno del Viaccia Festival, nell'ambito della Pratoestata, promossa dall'assessorato alla cultura del Comune di Prato. Mercoledì 6 luglio alle 21.15 il nuovo spettacolo dell'associazione Perché Verdi Viva, fa che Iorida Buffone, scritto e diretto da Goffredo Gori, debutterà il Circolo Arci di Viaccia. Una proposta del tutto particolare nei giardini Elisabetta, come già nel corso delle stati precedenti, per legare la collezione donata da Goffredo Gori ad un percorso invece di spettacolo da viva, ad un allestimento in un luogo del tutto particolare della città. Lo spettacolo di cui Toscana TV e Media Partner si aprirà con un video sulla prima sezione espositiva che contiene anche l'autografo verdiano. È una rappresentazione multidisciplinare, nel senso che c'è canto, canto lirico logicamente, poi c'è narrazione, poi c'è musica dal vivo e poi ci sono delle proiezioni, fra cui anche un video, la prima rappresentazione di quello che è il contenuto del tesoro del sacello alla Scuola Verdi. Per prenotarsi si può mandare un'email all'indirizzo perchéverdiviva.it